Siamo al telefono con il consigliere Fabrizio Ferrari. È vero che ha presentato le sue dimissioni? No, è vero che ho dato le dimissioni. Infatti ieri sera ho consegnato nelle mani del sindaco le mie dimissioni da consigliere comunale e settimana prossima, come avrò un po' di tempo di potermi recare al protocollo del comune per ufficializzarle, lo farò. Però da ieri sera il sindaco ha in mano le mie dimissioni, ne dovrà fare l'uso che non ritene più opportuno. Però questa è la decisione che ho preso in conseguenza all'ultimo consiglio comunale. Quindi perché ha deciso di dare le dimissioni? Non è più possibile per me rimanere seduto in questo consenso. So che la cosa non è condivisa da diverse persone, da diversi miei sostenitori. È difficile forse anche da capire e da interpretare. Bisognava forse essere in consiglio comunale giovedì scorso per capire che il sottoscritto è arrivato ad un bivio. Cioè rischio di fare cose che poi magari potrei pentirmene amaramente. E quindi preferisco veramente sospendere qui questa mia esperienza. Non sono contento di questa mia scelta ma lo faccio proprio per cautelare anche la mia persona perché non è più possibile rimanere a lavorare in questo consiglio comunale.